Ladies and gentlemen, benvenuti al primo episodio di Koopanin Malware Show! Sì, lo so che lo state pensando, questa non è proprio malware, lei era impegnata in alcuni affari molto importanti e abbiamo raccattato questa qua per la strada, da qualche parte... sì, scusa. Quindi oggi intervisteremo un personaggio molto particolare che in realtà non è un essere umano ma bensì è un ologramma, ma lui non sa di esserlo. No, non ho mai risultato! Sigla! Here we go, off the rails, don't you know, it's time to raise ourselves, it's freedom like you never knew When he bags, for a pass, say the word, I'll be there in a flash, you could say my hat is off to you Koopanin Malware Show! Ladies and gentlemen, l'ologramma! Oh, benvenuto! Lei è il signor... Oh, l'ololuto, l'olorevo. Ero, il giulà. Oh, lo... oh, ci... oh, lo... Olidato. Oh, l'olonti odiano. Oh, l'olonto, l'oltero. Oh, l'olino. eolo ah eolo ah ok va bene e prego si scega pure su questa sedia ma non lo sa che questa non è una sedia per ologrammi non si può sedere l'oltre passa non sapeva di essere un ologramma no io non sono un ologramma dice che prima non era un ologramma dice che non aveva un ologramma ma se lei non fosse un ologramma io come farei a fare questo eh ma l'ho penata passata e si può si può acazzare adesso grazie e cosa ne pensa lei ah farlo provare con i giochi videogiochi diamogli in controllo secondo me io so giocare il controllo se uno lo chiama non ha la capacità di tenere in mano gli oggetti ma che cosa stai dicendo proviamo prova a dargli un controllo di quello che dice provi a tenere in mano questo prenda lo prenda lo prende io io lo sapevo ma come fa quando deve giocare o deve andare in bagno o qualsiasi altra cosa la scarica e come lasciamo stare meglio lasciar perdere cambiamo argomento ci può dire com'è successo come potuto capitare che lei si è diventato un ologramma sono passato nello spazio in un buco spazio temporale stava attraversando un buco spazio temporale va bene ma 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 perché cosa cosa sta facendo la mia collega ma non la tocchi ma basta basta stop stop iscriviti iscriviti ora se non l'hai già fatto subscribe subscribe now ah date anche un'occhiata la mia pagina facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti ciao 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 ciao